Il padrone è via da così tanto tempo. Mi aspetto che torni ad ogni alito di vento. C'è da impazzire. Cosa non bisogna fare per passare il tempo? Ops, ho fatto un disastro. Dunque, dov'ero rimasto? Ah, sì. Ci sono visite inattese. Occorre prepararsi al meglio perché il padrone... turnerà Karazhan. Presto.